Non è che non la convince? No, questo mi ultra convince, perché stiamo parlando di una cosa acclarata, certo, da un'indagine non su grandissimi numeri, prevedibile sul piano teorico, già applicata in Germania, in Francia, in Spagna. Perbacco, cerchiamo di fare un po' fidarci, perché se no, in questo paese qua, siamo tutti allenatori delle squadre di calcio. E tutti dicono la loro, ma insomma, cerchiamo di... no? Io lo penso così, lo dico così. Allora, dicevamo all'inizio della trasmissione che il Centro del Consiglio Draghi è reduce da un grande successo al G7 nel weekend, oggi al vertice Nato, non dovrebbe rassicurare adesso che è tornato a casa direttamente i cittadini, parlando direttamente alla popolazione. Magari pensa che... hai visto mai che quando parlava Conte ci metteva la faccia tutti i giorni, gli davano del... non dico del pagliaccio, ma quasi. Magari pensa che sarà meglio star zitto. Io chiederei a Draghi di pronunciarsi invece più nettamente su quando il pollaio viene fuori dentro il governo. Adesso oggi leggo che Salvini dice che il primo luglio bisogna riaprire le discoteche. Qui ognuno fa il suo programma e le sue cose. Questo deve dire, adesso state zitti, che come si riapre, si chiude, si dico, decidiamo qua noi. Perché avete visto in Inghilterra, per esempio... Boris Johnson ha detto poco fa che niente riapertura è il 21 giugno, tutto spostato fino al 19 per via della variante indiana e ci arriviamo anche noi. Franco Bernabé, lei è d'accordo? Sì, sì. Draghi però... Sono d'accordissimo. Quindi non deve parlare alla pubblica opinione direttamente per rassicurare, per fare un po' di chiarezza, e invece con quelli più chiacchieroni all'interno del suo governo? No, ha ragione. No, ha ragione.